Ieri mattina il piazzale del Luciardone era stracolmo di detenuti, si sono alzati in piedi per salutare il nuovo Orcivescovo di Palermo. Lui saluta sorridente, stringe le mani a tutti con il solito sorriso rassicurante e come sempre stupisce tutti. Sono solo Don Corrado, continuate a chiamarmi così, ripete a tutti, anche ai detenuti del Luciardone, incontrati nel primo incontro ufficiale d'Arcivescovo. Prima di iniziare l'omelia si toglie la mitra, il copricapo dei Vescovi, così siamo più liberi e più contenti, dice a tutti. Un'informalità che stupisce ma che riscopre grande ammirazione, la stessa semplicità e emozione che ha caratterizzato il lungo rito cerimoniale di sabato. Migliaia le persone presenti, tantissimi giovani che hanno accolto Don Corrado in piazza Pretoria con canti, flash mob e striscioni colorati. Una vera e propria festa a cui Don Corrado ha partecipato con grande umiltà, commozione e spiritualità. Una vera e propria empatia tra lui e la gente che lo ha accolto, chiamato, applaudito e si è commossa insieme a lui Per un grave problema organizzativo sono state molte le persone provenienti dalla diocesi di Noto che nonostante avessero i posti riservati sono rimasti fuori dalla cattedrale. Ognuno di loro, dopo ore di viaggio, ha aspettato comunque più di sei ore fuori dalla chiesa dove si svolgeva la cerimonia assistendo solo da uno schermo esterno alla cattedrale. Molta delusione, ma la semplicità della gioia di esserci comunque e di averlo potuto salutare quando alla fine del rito è uscito sul piazzale facendosi abbracciare dalla folla. 15 pullman partiti dalla diocesi di Noto e circa 300 le persone arrivate con propri mezzi. Un piccolo esercito di migliaia di fedeli che ha voluto far sentire a Don Corrado il proprio affetto e ripartendo hanno lasciato a Don Corrado un po' del loro cuore. Noi abbiamo avuto la fortuna di esserci. Noi abbiamo avuto la fortuna di esserci.